E' rinomata per le sue acque freschissime e pulite pure ieri la fontana della valle, quella che attraversa le gole di San Venanzio è stata danneggiata. Alcuni blocchi di pietra molto pesanti sono stati staccati e buttati a terra. Potrebbe essersi trattato di un incidente, anche se non ci sono dei segni rilevati. Come pure, un'ipotesi da prendere in considerazione, non si esclude un atto vandalico. A denunciare il caso sui social sono stati direttamente i sindaci di Molina Terno e Castelvecchio Subeco, rispettivamente Luigi Fasciani e Pietro Salutari, che hanno annunciato immediati interventi di riparazione della pregiata fontana, non senza esprimere sconcerto per quanto accaduto. Quel luogo è un vero e proprio refrigerio per i tanti ciclisti e motociclisti che attraversano i territori della valle Subequana e della valle Peligna per un momento di ristoro e per fermarsi ad ammirare le imponenti gole di San Venanzio.